Politiche sociali nel caos a Torre del Greco. A partire dal prossimo 15 maggio si rischia infatti il blocco dei servizi. Sul piede di guerra i sindacati che stanno seguendo l'avvertenza dei lavoratori. Siamo molto preoccupati, questa è un'amministrazione irresponsabile. Denunciano a gran voce ai microfoni di TV City. Nicola Di Donna, segretario regionale della Will Funzione Pubblica, oggi qui a Torre del Greco per l'avvertenza degli operatori delle politiche sociali. Mancano pochi giorni alla scadenza della proroga, si rischia un blocco dei servizi. Siamo veramente molto preoccupati, non solo per i lavoratori ma anche per la città. Noi sappiamo che cosa sono i servizi sociali, vanno verso una cittadinanza debole. È un'amministrazione che si comporta in questo modo è un'amministrazione irresponsabile. Non solo manda via dei precari e magari per farne altri, così come hanno dichiarato. Attraverso un atto di indirizzo, così come disse il consigliere in prefettura, che noi non abbiamo mai letto. Noi non sappiamo questo atto di indirizzo che cosa dice. Perché si fanno dei precari in cambio di altri precari che hanno una professionalità acquisita in 25 mesi, quindi conoscono tutte le attività. Quanti lavoratori parliamo? Sono otto assistenti sociali, tra l'altro che se vengono stabilitati sono a costo zero perché paga la legge di stabilità 2019 e sono otto amministrativi. Quindi parliamo comunque di personale che ogni giorno è a contatto con il vero problema della città di Torre del Greco. Dopo questo incontro in prefettura non è cambiato niente? Noi adesso siamo costretti a fare un esposto in procura per capire questo atto di indirizzo che noi abbiamo compreso e dichiareremo e scriveremo di nuovo alla prefettura per informare sull'avvertenza e che l'amministrazione non ha ottemperato agli incontri che la prefettura invitava e andremo avanti con manifestazioni perché noi non faremo passare in silenzio questo massacro dei servizi e dei lavoratori. Nulla di fatto dopo l'incontro in prefettura. Siamo indignati e ancora in attesa di spiegazioni. Si tratta di un atto di indirizzo che va contro la città e contro le categorie deboli. La nostra mobilitazione andrà avanti. Noi non ci spieghiamo come l'amministrazione abbia deciso non solo di mandare a casa queste professionalità che hanno dato tanto anche soprattutto nel periodo della pandemia, sta per bloccare i servizi perché dal 15 maggio non si sa come andrà a finire e ci preoccupa che non ha tenuto conto neanche delle indicazioni della prefettura. Stiamo trattando un'APA come se fosse una SPA con una gestione privatistica. Non abbiamo delle motivazioni. Ad oggi non sappiamo le motivazioni che ci portano a non confermare, accompagnare a costo zero questo personale ad una stabilizzazione. Lei come si spiega questa cosa? Ma guardi, io se mi spiego questa cosa diciamo che dobbiamo andare su altri tavoli e rivolgersi subito ad altri organi. Al momento abbiamo un indizio. Se questo indizio dovesse diventare una prova saremo pronti a portarlo avanti, dare gli opportuni sedi ovviamente. Che significa per gli utenti di servizi sociali perdere la continuità? È una cosa molto grave. Nella scorsa manifestazione ho visto la disperazione negli occhi di alcuni utenti. Stiamo parlando di persone disagiate, quindi servizi di prossimità dove si creano un rapporto. È un'ancora di salvezza un'assistente sociale, diventa un confidente. Quindi ricominciare tutto da capo è destabilizzante. La vostra mobilitazione andrà avanti? Sì, andrà avanti senza nessun ombra di dubbio perché veramente è indegno per una città come Trovete Greco non avere un programma sociale. Grazie a tutti.